In Bio, istituto di medicina biologica. In Bio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. In Bio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. In Bio si trova a Milano, in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it. Il programma è presentato da Alcat Test Italia, Ben ritrovati a tutti a Parlamento, nuova puntata, puntata particolarmente importante quest'oggi, lo sono tutte ma questa davvero lo è in particolar modo perché tratteremo un argomento prezioso per tutti, si tratta di, parliamo di chirurgia, chirurgia robotica, parliamo del futuro ma anche del presente della chirurgia e lo faremo bene. Prima di tutto presento il nostro abituale polemista Roberto Del Conte che saluto e poi insomma presentiamo il nostro ospite il dottor Jacques Mejevan, un luminare possiamo dire della scienza chirurgica robotica e che ci spiegherà tutto. Ben ritrovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Allora facciamo cominciare sempre il nostro brillante polemista, allora oggi parliamo di un tema che forse non ti vede preparatissimo, siamo qui più che altro per ascoltare. No, no, non dire questo perché se no poi faccio brutta figura. Allora, faccio un tema di chirurgia robotica. No, 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 però di sanità abbastanza. Sono due anni che lavoro, lo sai, in Commissione Sanità in Regione Lombardia che è una delle regioni che ha l'eccellenza in questo mondo, mi sono occupato di tante cose, non mi occupo di sanità pura, però oggi su una cosa hai detto una cosa santa. Molto probabilmente oggi non mi sentirete parlare tanto perché da quello che mi hanno raccontato dovrò ascoltare tantissimo perché queste sono cose molto interessanti e soprattutto innovative. Tu sai che io sono un innovatore proprio di passione, quindi qua siamo qui ad ascoltare e a pendere dalle labbra del nostro. E sono innovazioni che affronteremo nel corso della puntata, però visto che ci ha dato lo spunto allora parliamo subito di questa questione più di organizzazione anche se vogliamo politica da un certo punto di vista. Si parlava, chi addirittura polemizzando, della Lombardia come di luogo di eccellenza per la sanità in Italia, c'è chi diceva sì è assolutamente così, altri dicevano no, non è proprio del tutto così. Ecco prima di entrare nel tema specifico della robotica, della chirurgia e di quelle che sono le potenzialità, è proprio vero che in Lombardia in Italia c'è questa eccellenza a livello addirittura europeo mondiale oppure sono quelle cose che i politici dicono a volte per cavarsela nei dibattiti? Ma guardi dal mio punto di vista sicuramente sono convinto che la Lombardia è un punto di eccellenza non solo a livello nazionale ma a livello europeo e anche mondiale abbiamo avuto tanti esempi nel passato e conosciamo quali sono le realtà di punta riconosciute in tutto il mondo e dall'estero ce lo riconoscono, per esempio in campo chirurgico la Lombardia è sempre stata espresso delle realtà che sono estremamente all'avanguardia e premianti in campo oncologico, inutile ricordare tutta la strada percorsa da noti oncologi all'istituto nazionale dei tumori che hanno fatto la storia dell'oncologia mondiale e che quindi classificano etichettano questa regione come una delle più premianti e delle migliori a livello internazionale. Infatti le dicevo questo perché la polemica era più che altro nel periodo di Formigoni che lui continuava a dire no c'è questa grandissima eccellenza e altri detrattori dicevano no beh a parte alcuni scandali che poi sono capitati e sono andati alle cronache un po' dei giornali altri dicevano no è vero c'è l'eccellenza dove ci sono i margini dove ci sono i contributi e non c'è l'eccellenza dove magari c'è la lungodegenza, i costi. Ecco questa era un po' la critica che si faceva. Sì questo probabilmente è anche stato vero però il sistema competitivo fra il pubblico e il privato che è stata una scelta degli anni 90 a mio avviso ha stimolato notevolmente l'intuizione, la ricerca e il desiderio di esprimere una sanità di alto livello. Ha funzionato. È interessante questo punto qua. Prima lo stavamo dicendo sono completamente d'accordo ci sono molte regioni in Italia che questo sistema, il sistema competitivo tra il pubblico e il privato non lo accettano, lo accettano solo a parole. Secondo me questo è l'esempio da cui partire per le altre regioni perché come voi ben sapete purtroppo, dico purtroppo, da tutte le parti d'Italia arrivano telefonate per farsi operare in Lombardia quindi un motivo ci sarà. Noi dovremmo riuscire a portare le eccellenze non solo in Lombardia ma in tutte le regioni d'Italia. In tutte le regioni d'Italia. Ecco quindi il nostro è un approccio molto laico agli argomenti quindi insomma abbiamo fatto presente un po' quali erano i punti di vista soprattutto nella gestione durante il periodo di Formigoni quindi gli anni 90 però abbiamo visto che questo sistema di competizione tra pubblico e privato può funzionare, può essere veramente il grimaldello intorno al quale costruire una sanità migliore in tutto il paese. Ma a proposito di se una sanità migliore è il caso di parlare della robotica. State tranquilli, il professor Megevan riuscirà a spiegarcelo veramente molto bene perché anche qui ci sono due partiti. C'è chi dice costa troppo e c'è chi dice no, i vantaggi sono tali e tanti che non è possibile farne a meno il futuro, è questo. Allora, credo che la questione per onestà intellettuale, la questione dei costi della parte economica vada affrontata in un secondo tempo. Forse prima all'inizio dobbiamo dare un quadro per chi ascolta e per i telespettatori di che cos'è la robotica perché spesso i pazienti vengono da me e pensano di essere operati da un robottino che cammina e che quindi è tutt'altra cosa rispetto a quello che in effetti c'è in una sala operatoria. Il sistema robotico nasce negli anni 90 con un progetto creato negli Stati Uniti, in California, perché c'era l'esigenza per i soldati che andavano a combattere, soprattutto nel periodo del Medio Oriente, quindi le guerre in Iraq e in Afghanistan, di avere dei professionisti di alto livello, non sul campo, ma che potessero in linea teorica risolvere dei grandi danni fatti durante la guerra a questi loro soldati e quindi operare a distanza. Questo è il concetto che nasce e per cui si instaura un sistema chirurgico che è gestito magari dall'altra parte dell'oceano ma che si poi estrinseca in Medio Oriente grazie al robot. Quindi anche dalle guerre, hai visto Roberto, ogni tanto la tecnologia applicata alla guerra e poi viene utilizzata a livello civile. Ma questa cosa è molto interessante perché in teoria, spieghiamo ai nostri telespettatori, che qui uno dall'America riesce attraverso un robot a operare o a intervenire su uno che è stato ferito magari in Afghanistan. Probabilmente non è l'applicazione più frequente, questa è una delle possibilità. Ma quel progetto si chiamava già Da Vinci? Sì, sì, il progetto nasce come sistema Da Vinci. C'è un unico problema è la velocità di trasmissione dei dati via satellite che ancora crea dei problemi in questo senso. Il Da Vinci, in onore al nostro genio italiano, che 600 anni fa comincia a pensare e progetta su un suo disegno meraviglioso un primo sistema di tiranti e di carrucole per far muovere una macchina. E se voi vedete la progettazione del sistema Da Vinci, ricorda esattamente il progetto originario. Lo stesso Leonardo Da Vinci aveva realizzato queste macchine, pensate anche per la guerra addirittura, quindi... Ecco perché viene chiamato sistema Da Vinci in tutto il mondo. E funziona, funziona molto bene. Dal punto di vista del funzionamento non ci sono dubbi, quindi chi dovesse trovarsi a scegliere come mi faccia operare, da questo punto di vista non dovrebbe avere alcun dubbio, perché i vantaggi sono tantissimi per il chirurgo, per gli allievi, per la stanchezza dopo una lunga operazione... E per il paziente, chiaramente. E per il paziente che praticamente non ha quasi conseguenze, diciamo, comunque sono limitate al minimo. Allora, la prima macchina, il primo sistema viene impiantato nel 2006 negli Stati Uniti e poi a macchia d'olio c'è uno sviluppo con un incremento quasi del 20% annuale, sia come sistemi impiantati in tutto il mondo, come numero di interventi eseguiti. Fate il conto che soltanto nel 2014 nel mondo si sono fatte circa 600 mila operazioni con sistema Da Vinci. L'Italia è uno dei paesi europei, è il secondo paese in Europa come numero di sistemi impiantati e l'anno scorso più o meno 13 mila interventi. Cioè l'Italia è la seconda in Europa? La Germania, se non sbaglio con questi dati, però è uno dei primi, sicuramente dei primi tre paesi europei come numero di sistemi impiantati. Perché siamo abituati ad essere ultimi in tutte le classifiche e questo ci stupisce. In quanti ospedali si opera in Italia con questo sistema? Ci sono allo stato attuale circa 76 o 77 sistemi Da Vinci che sono stati collocati, però se lei fa conto che alcune strutture, per esempio di Milano, non ne hanno uno, ma ne hanno due o tre. La concentrazione massima è in regione Lombardia e in Toscana, sono le due regioni dove ci sono il maggior numero di sistemi robotici impiantati. Quindi dei numeri importanti, un incremento del 20% in ogni anno, un allargamento a macchia d'olio proprio in tutta l'Europa, anche nei paesi dell'Estremo Oriente comincia l'Africa addirittura, l'America ormai è popolata di robot e noi anche in Italia facciamo un grosso lavoro. Questo sviluppo, questa espansione significa che evidentemente anche dal punto di vista economico regge il sistema? Allora, dal punto di vista economico per come vengono presentati i dati è un sistema costoso. Se si analizzano i dati spuri semplicemente di quanto costa un intervento di chirurgia robotica paragonato a un intervento di chirurgia tradizionale, quello vuol dire col grande taglio come si faceva una volta oppure con un sistema laparoscopico, evidentemente costa di più. Il vero problema è che in Italia non si fa quello che viene fatto invece in altri paesi tipo gli Stati Uniti, cioè di computare qual è il beneficio per la collettività e come impatto sociale i costi indotti, la ripresa molto più rapida di ritorno al lavoro e quindi un costo per la collettività che si deve abbattere. Il costo-beneficio alla fine, voi avete fatto un calcolo che per un discorso di costo-beneficio è più allettante operarsi con la robotica? Se si tenesse conto di tutti i valori, dove i valori sono? L'operazione, il sangue, perché mi sembra di capire che... Sì, adesso abbiamo un minuto per chiudere la prima parte, quindi tutti i benefici dell'operazione glieli farei spiegare nella seconda parte perché ci sono 5 o 6 proprio punti chiari che forse vale la pena sviluppare. Certo è che se gli Stati Uniti hanno computato già tutti gli elementi, quello studio negli Stati Uniti può essere applicato forse anche all'Italia. Lo so, però noi siccome siamo rimborsati a DRG, purtroppo in questo momento... Ho una domanda da fare prima che chiude che manca poco. Costi-benefici li vediamo dopo, ma voglio fare una domanda da paziente. Il rischio esiste? È inferiore, è superiore? Perché io ho di pensare che qualcuno con le sue manine stia lavorando su un tubo, qualcosa che entra dal mio ombelico e va ad operarmi, qualche problemino magari... È un dato contrario. È una domanda molto pertinente la sua. In qualunque operazione, piccola o grande che sia, c'è un rischio, minore o maggiore. Quindi un rischio chirurgico c'è in tutte le operazioni. Si è dimostrato, e ormai ci sono qualche migliaio di studi scientifici internazionali e anche nostri italiani, che dimostrano che l'incidenza delle complicanze con un intervento robotico è statisticamente molto inferiore rispetto a quella delle altre chirurgie. Perfetto. Ne parleremo subito dopo, un po' di pubblicità, ma torniamo, restate con noi. Torniamo in studio, torniamo con il dottor Jacques Mejevan che ci stava spiegando e ci spiegherà ancora i benefici e soprattutto cosa significa veramente chirurgia robotica e lo facciamo sempre con Roberto Del Conte che oggi sta zitto. Eh sì, no, anche perché dobbiamo veramente ascoltare per cercare di capirne di più. Per farlo, peraltro, vi mostriamo anche qualche immagine di questo robot da Vinci durante la trasmissione, durante la spiegazione di Mejevan, al quale chiedo subito quali sono a questo punto i benefici per il paziente con la chirurgia robotica. Allora, i benefici sono inconfuttabili. Ci sono sicuramente delle degenze che sono accorciate, più brevi, di vari giorni, ecco, su un intervento maggiore e questo è molto importante. Il paziente ha molto meno dolore, nelle scale della computazione del dolore questo risulta molto più bassa rispetto a un intervento chiaramente di chirurgia tradizionale. Si riprende presto, inizia a mangiare prima, si muove nel reparto già il giorno dopo. Va a lavorare prima. Poi viene dimesso prima, torna a casa e torna a lavorare anche prima. Quindi c'è meno brevi anche di sangue, c'è meno complicanze? Non si fanno più trasfusioni di sangue durante questi interventi chirurgici, non facciamo più trasfusioni. Il grandissimo vantaggio è che quando iniziamo un intervento cosiddetto di chirurgia mini-invasiva, cioè un approccio gentile al corpo del paziente, abbiamo un ridotto traumatismo sugli organi che andiamo a operare e quindi un risparmio di strutture molto importanti. Le voglio solo... Perché non c'è il tremore della mano che dopo... Assolutamente, nessun tipo di tremore perché viene filtrato dalla macchina stessa, per cui il chirurgo comanda al robot quello che il robot fa sul paziente e la macchina in questo caso è chiaramente superiore come risultati. Ma le voglio solo dare un dato importante che è significativo. La chirurgia robotica per esempio si usa molto, e non è il mio campo, in urologia sulla chirurgia della prostata. Questo è un grosso problema per gli uomini che venivano operati una volta in termini di residuo di impotenza sessuale e di incontinenza urinaria dopo le operazioni per i tumori alla prostata. Bene, grazie alla chirurgia robotica queste percentuali si sono completamente abbattute e hanno dei risultati quindi postoperatori che sono estremamente gratificanti. Perché proprio nella prostata c'è uno spazio di movimento estremamente ridotto, bisogna essere estremamente precisi per non creare danni collaterali definiamo. Ma la magnificazione che dà la chirurgia robotica, a parte che il chirurgo vede in chirurgia tridimensionale, ma vede delle strutture che a occhio nudo non si riescono a vedere e quindi il risparmio per esempio dei nervi che sono deputati all'erezione dopo l'operazione è assoluto, è massimo, quindi è proprio sicuramente una chirurgia di avanguardia. Quindi da questo punto di vista non ci sono assolutamente dubbi. E per il chirurgo invece quali possono essere i vantaggi? Perché magari un chirurgo che si sente, un grande chirurgo giustamente, dice ma no io opero con le mie mani, non voglio delegare. Non sarà mai paragonabile. Il chirurgo esce da un intervento anche lungo perché facciamo la chirurgia maggiore, ecco evidentemente io nel mio campo opero l'intestino, il retto, il fegato, il pancreas, questi organi che stanno nell'addome per malattie tumorali o importanti, ma esce che è sicuramente molto meno stanco perché in una posizione ergonomica è seduto comodo alla console, collabora col suo assistente al tavolo operatorio, parla costantemente e ha sicuramente tutta una serie di vantaggi, di gesti che la mano umana per esempio non può fare. Io faccio solo questo breve esempio, se voglio girare la mia mano a 360 gradi senza mollare e lasciare uno strumento non posso farlo. Mi fermerò a 180 gradi e dovrò lasciare andare la pinza e rigirare la mano. Con lo robot gli faccio fare 360 gradi. Ho una domanda, ho una domanda. Quindi i tuoi dubbi sono già passati. Ho una domanda, a livello formativo è più facile per voi che dovete insegnare agli allievi questo tipo di sistema di operazione oppure no? Sì, sì. Ecco, per la formazione ci sono dei vantaggi anche in questo caso? Allora, enormi, vantaggi enormi per due motivi. Il primo perché evidentemente tutti possono vedere quello che io sto facendo al tavolo sulla console robotica proiettato sui televisori. Mentre con le passate tecniche? Con le vecchie tecniche chirurgiche. Quando io ho iniziato a giovane ci avvicinavamo al tavolo operatorio ma la paura dei miei maestri era quella di trasmettere troppo e che l'allievo superasse il maestro. Quindi si faceva come a scuola che si nascondeva il compito, no? Quindi adesso si può mettere l'operazione quasi online, dico, a una classe intera. Lo facciamo, ci sono pieni di siti che portano i nostri filmati, di interventi fatti, ma il grande vantaggio è che abbiamo la doppia console e cioè accanto a quella del chirurgo che sta operando ce n'è un'altra dove si siede un giovane chirurgo in formazione che come a scuola guida sulla macchina oppure un pilota che impara su un aereo prende i comandi ma l'altro chirurgo è immediatamente pronto a bloccare la sua attività se qualcosa non va, oppure se sta facendo dei passaggi che non sono esattamente corretti. Quindi è un intervento sul campo di formazione che è il più qualitativo che possiamo dare adesso nella formazione. Professore, cosa succede se, una banalità, ma siccome i nostri telespettatori sono anche curiosi, sono curiosi, cosa succede se si guasta il software di un'apparecchiatura di quel genere mentre lei sta operando? Abbiamo un ingegnere presente che si occupa, a me è successo una volta in quattro anni, l'ingegnere era presente e ha sistemato. Quindi c'è sempre un ingegnere quando operate? Quando abbiamo bisogno, sì. In ogni caso si può tornare ad operare in versione, diciamo, normale, tradizionale. Esattamente, se c'è bisogno si converte l'intervento in laparoscopia oppure in chirurgia tradizionale, per quel caso fortuito, ma veramente è una macchina che funziona, è una vera Ferrari. Sembra più rischiosa la stanchezza di un chirurgo in piedi dopo otto ore di intervento che può avere un tremore alle mani. Assolutamente, mi piace questa cosa, sono rimasto attratto quando mi è stato detto di parlare, oggi ho detto, oggi starò zitto perché sicuramente ascolterò. Però voglio fare un esempio banale che è successo a me, io sono stato operato, mi si è bucato un diverticolo, ho un taglio da qui a qui, un altro taglio da qui a qui e praticamente sono rimasto sei mesi a casa. In questi sei mesi, in questi sei mesi, il taglio di destro ha avuto un'infezione e sono stato altre tre settimane a casa. Queste sono le complicanze. Non riuscivo a camminare come dovevo camminare, quindi in teoria io, che avevo voglia di tornare al lavoro, in effetti con questo sistema io dopo qualche giorno tornavo a lavorare, non avevo uno sbrego di questo genere, non rischiavo situazioni particolari perché comunque quando ti aprono non sai mai quello che succede, quindi questo è un dato di fatto. Guardi, l'analisi l'ha già fatta lei, non devo aggiungere niente, in termini di complicanze post chirurgiche dopo i grandi tagli, queste noi non le vediamo più, ma deve calcolare che sono anche un costo sociale importante per la comunità perché lei non ha lavorato per sei mesi. No, no, ma infatti l'Inps mi ha dovuto pagare, ho dovuto andare... Ecco dove diventerebbe vincente l'analisi economica corretta. Certo, certo, certo. Il problema è invece che poi il costo effettivo può gravare sulle singole strutture, in particolare quelle private dove non si ripiana con soldi pubblici e quindi questo può essere nell'immediato ancora un problema. Da questo punto di vista la politica dovrebbe avere una visione più complessiva di tutto questo approccio robotico. Adesso si stanno facendo delle analisi e degli studi scientifici di comparazione randomizzati per dimostrare la superiorità della tecnica, dopodiché evidentemente si auspica che ci sia una presa di coscienza a livello politico per venire incontro a questo. Però vorrei spendere solo una parola per esempio per la fondazione Opera San Camilo per cui io lavoro perché è un insieme di strutture dei padri camigliani che si è dato un ordinamento 500 anni fa con San Camilo dell'Ellis e che è deputata alla cura degli infermi. Hanno molte missioni sanitarie nei paesi del terzo mondo e hanno la direzione e la fondazione stessa ha fatto un grosso sforzo economico per acquisire di tasca propria, con i propri soldi, il sistema Da Vinci che è molto costoso come acquisizione, ma per dotare le loro strutture sempre del massimo della tecnologia e del massimo della qualità di medicina che si eroga e che si offre alla comunità e ai cittadini. Qui torniamo a uno dei miei vecchi cavalli di battaglia. Infatti ti volevo proprio coinvolgere sull'aspetto più politico. Non è politico, io da anni continuo a dire che il sistema americano sotto certi aspetti sarebbe da copiare, ma non sotto l'aspetto sanitario puro, ma io faccio una domanda al professore, ma se tutto questo io lo potessi fare e lo potessi scaricare dalle mie tasse, forse sarebbe un'opportunità in più per me, per tutti, per poter andare avanti in situazioni di questo genere che sono interessanti, io invece non lo posso scaricare. Io alla tua riflessione aggiungo la mia e dopo ci rivolgiamo al professore, che è questa. Perché un ministro della sanità è sempre un politico? Noi abbiamo visto i tecnici all'opera, non ci sono sempre piaciuti al governo, però forse, sentendo anche le parole del dottor Megevan, insomma un tecnico al di castero della sanità forse potrebbe superare queste difficoltà, magari anche di comprensione. Ce ne sono stati, però il vero problema è che l'impianto in una nazione come la nostra è molto particolare, quindi trovare la quadra del cerchio per tutte le regioni, nello stesso modo, con un'unitarietà di intenti è estremamente difficoltoso. Quindi parliamo del titolo quinto adesso? No, sì, assolutamente. Però quello che diceva lei era molto corretto, l'America vive di donazioni private che poi si possono detrarre, quindi io sono stato recentemente all'Università di Chicago, negli Stati Uniti, ho visto interi reali corridoi o reparti o parti di blocco operatorio che sono donate da dei privati. Vorrei soltanto dire due cose, anche se abbiamo solo pochi secondi, ma mi ha colpito prima una cosa che ha detto il professore, che nell'eccellenza delle eccellenze noi abbiamo qualche italiano all'estero che in questo settore è veramente, sono ai vertici e soprattutto mi ha fatto sorridere quando mi ha detto, senza offesa per nessuno, non l'hanno preso a Roma, Milano, ma sono andati a cercarlo a Grosseto. A Giungolo, l'abbiamo preparato in Italia, è stato un costo anche per l'Italia e adesso sta facendo grandi cose all'estero, magari possiamo dire anche di chi parliamo. Pier Cristoforo Giuliano Otti, che è stato probabilmente uno dei migliori, sicuramente il migliore, forse chirurgo robotico, nasce a Grosseto, è stato chiamato proprio dagli Stati Uniti a Chicago dove gli hanno praticamente dato in mano, chiavi in mano, come si suol dire, il reparto di chirurgia robotica più bello degli Stati Uniti e sono venuti a cercarlo qui da noi. E noi invece gli abbiamo dato un bel biglietto d'aereo in mano. Vabbè, dovremmo sicuramente richiamare il professor Negebank, ringrazio moltissimo per il suo contributo di oggi, ringrazio Roberto e tutti voi per averci seguito. Ciao a tutti. Inbio, istituto di medicina biologica. Inbio è uno dei primi istituti italiani privati che ha iniziato a studiare le malattie personalizzando le cure con particolare attenzione alla storia di ogni singolo paziente. L'istituto vanta un team di medici professionisti esperti a livello nazionale in nutrizione, intolleranze alimentari, genetica, idrocolonterapia, oncologia, ipertermia oncologica ed estetica. Inbio offre diversi strumenti diagnostici innovativi e terapie personalizzate, risultato di anni di ricerca e di uno spirito innovativo. Inbio si trova a Milano in via Molino delle Armi 3, www.inbio.it